Si tratta di circa 6 kg di funghi fatti ieri pomeriggio 1,7-1,8 kg e stamani mattina la differenza tra io e 900 e qualcosa Bruna. Bruna però ha fatto il più bello che è quello nel centro, vado a giro piano piano, lo evidenzio, comunque sono tutti i funghi veramente belli. Quello che è nel centro che è un moro fatto da Bruna indubbiamente è il più bello. Nel posto indicato la faggettina sopra casa che gli ho indicato io e che lei volta a volta che sorti ci va a fare una giratina ce ne ha trovati due. Questa è la più bella di tutti, vediamolo da vicino. 6,40 grammi o se volete chili 0,640. Continuiamo a girare poi ora le devo un po' selezionare perché 5 kg le vuole furio. 5 kg di 1,8 g a 2,8 g a 1,Z 5,5 Chapter 12,5 in wait e ha parlato di chandова dal alla crocina dice che ce n'ha ancora una chilata e qualcosa, se dove si metta. A chiusura di stagione si sta facendo funghi più belli di tutta la stagione, oggi 26-27. Complimenti! Complimenti! Eh sì, merita!